Beh, voglio, che già dicere? Che già fa? Purtroppo per me è una malattia, non ci posso fare niente. Che vuoi a te? Non è per cagnolini. E niente, che già fa? La già fa, la già fa, la già fa. Com'è bella questa lasagna, madonna mia. Però la cosa bella della lasagna che faccio io è che è una lasagna che voi potete mangiare anche tutta. Non succede niente, perché a me non c'è, non ci sono i grassi. Non c'è prosciutto, non c'è canne macinata, non c'è la beciamella. Allora, la lasagna mia, per farvi capire a voi, è in tutta una marea di basilico. Sughetto rigorosamente con pomodorini freschi. Voi in Italia avete il massimo dei pomodorini e quindi vale la pena sfruttare. Poi, la lasagna barilla, che personalmente la adoro, è buonissima. Poi si mette così cruda, senza riscaldarla ed è fantastica. Parmigiano reggiano. Nascamorza. E melanzane fritte. Cioè fritte con un po' di farina, perché così ti mantengono più leggeri. E il sugo fatto con olive e cappe. Cioè, vi giuro, vi giuro. La da bruire. Ma da morire che sta andando a stanzo là da là. Ma da morire. Con tutto il cuore. Troppo buono. Veramente troppo buono. Quindi, buona domenica a tutti. Buon appetito. Ciao ciao. Un bacione sulle labbra con la lingua a tutti quanti. Ciao ciao. Siamo uomini, maschi, femmini, bambini, tutto quello. Ciao. Mi spiace, maiali, che non si può registrare. Vedete già è finito il fatto di essere buono e generoso. Ah no, no. Attacca. Non proprio. Ragazzi, si sente... Ciao. Due 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 a zero. Fini. Si sente un... Fini. Fini. Ah, io è finito. Ok. Allora io go. 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 Ragazzi, allora, maiali. Si sente un odore per tutta la casa, il palazzo. Una schiattacca. Una schiattacca. Una schiattacca. Ta-da-da. Credetemi, ragazzi, da provare che odore. Si sente come buono. Vai, va, vai. Buon appetito, maiali. È finito il tempo di essere generoso. Eh, bravi. Ciao, ciao. E vado a mangiare, poveri due. Ah, ci schiattamo pure una bottiglia di champagne. Ah, no. La dobbiamo aprire quando finiamo la chitarra, per Gigo. Voilà. Ragazzi, guardate quanto è bella all'interno, guardate. Com'è? Dica. Com'è? Fantastico. Io non vorrei parlare, io vorrei mangiare. Allora, ragazzi, logicamente, conviene mangiare solo questo, eh. No, poi la carne, il formaggio, eccetera. Che altrimenti ci si ingrassa. Buon appetito a tutti. Ah, abbiamo aperto anche la bottiglia di champagne. Va bene, apriamo un'altra quando finiamo la scultura. Intanto lo champagne è l'unica cosa che non manca in frigorifero. Mai. Ciao, ciao.